Sono molto felice perché ho firmato per Milan, sono felice perché ho dimostrato che ho la qualità di giocare qui e sì, sono contento. Anche l'anno scorso quando sono venuto qui ho detto che non sono un bomber che aiuta la squadra ha un altro modo e sì, ho fatto 12 gol e spero che farò anche di più quest'anno. Non c'è nessun motivo, ma volevo prendere anche l'anno scorso 4-12 e erano occupati, ma adesso 12 è libero e ho preso 12. Zlatan è un grande giocatore che aiuta tutta la squadra e ha un grande impatto su tutta la squadra e è sempre un piacere di giocare con lui. Io faccio sempre il lavoro mio, ho il mio ruolo che adesso sto facendo bene e spero che farò anche meglio. Noi abbiamo un leader sulla panchina mister e un altro è Zlatan sul campo e per adesso non serve. è stato molto importante ma io ho lavorato sempre bene e lui ha visto che ho meritato occasione e questa occasione quando è arrivata ho fatto bene. voglio partire con tre punti, questo è più importante che la squadra vince e se io faccio gol bene, sennò l'importante sono tre punti. abbiamo avuto tre settimane di riposo ma abbiamo sempre allenato e abbiamo iniziato a lavorare già tre settimane fa e siamo pronti per il campionato e vogliamo continuare dove abbiamo lasciato l'anno scorso. gli obiettivi personali non ho niente particolare, sempre dare il mio massimo e giocare il meglio possibile ma per la squadra anche vogliamo fare meglio l'anno scorso e continuare a vincere. sono molto felice di continuare la mia storia con Milano e spero di vedervi presto al San Siro.